Ci sono oltre 200 milioni di euro per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. La senatrice Enza Blundo del Movimento 5 Stelle ha presentato due emendamenti per chiedere che parte di questi fondi vengano destinate alla messa in sicurezza delle acque del Gran Sasso e non solo. Sì, assolutamente, perché le vicende che abbiamo avuto tristi del periodo di maggio ci hanno sconcertato e comunque è necessario che venga esaminato a fondo il problema controllando davvero in che condizioni stanno le condutture che passano sotto l'autostrada. C'è stato un sisma, non si può escludere che siano state danneggiate e soprattutto vogliamo avere chiarezza se davvero i fondi che all'epoca erano stati stanziati per mettere in sicurezza nel 2003 che erano stati stanziati per sistemare i punti di captazione ma anche le canaline di scolo se sono davvero stati effettuati quei lavori perché è evidente che lo sversamento dell'acqua di lavaggio delle gallerie è confluito nelle acque che i cittadini devono utilizzare per bere, per cucinare, per lavarsi. Lei stamattina chi ha incontrato a Teramo? Allora, questo intanto non deve accadere perché la sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria su qualunque altro impegno e lavoro. Io sono venuta a Teramo per incontrare le associazioni che si sono da tempo occupate di questi problemi e che hanno anche la conoscenza tecnica delle condizioni in cui si trovano attualmente le condutture. Noi faremo anche un'interrogazione per approfondire queste tematiche ma soprattutto ho voluto che una parte di quei fondi fosse destinata proprio a garantire la cosa più importante la priorità principale per la salute dei cittadini che è la sicurezza dell'acqua pubblica. Perché noi abbiamo un'idea in testa che il progetto di messa in sicurezza è su tutta la provincia di Teramo ma non solo sulla A24, A25 che è il traforo del Gran Sasso e sia il laboratorio ma sono anche i fiumi e le discariche. Per cui il progetto è molto più ampio e ci dobbiamo occupare proprio di questo di sicurezza su tutto il territorio e su tutte le problematiche perché se ne risolviamo uno ne rimarranno altri cinque. Per cui questo è questo tavolo di lavoro, questo incontro con Enza Blundo e il prossimo incontro che poi faremo con i cittadini per metterli a conoscenza del lavoro che stiamo facendo.